Cambio alla guida della Segreteria Generale dei Pensionati della FNP CISL Monza-Brianza-Lecco. A Giorgio Galbusera succede Giuseppe Saronni, eletto dal Consiglio che rappresenta 46.000 anziani del territorio. Le priorità sono attualizzazione delle direttive regionali per una sanità di prossimità e rivalutazione delle pensioni in relazione al costo della vita. Sul monzese in particolare si lavora sul miglioramento della mobilità e sull'esenzione delle addizionali comunali per gli anziani. Il territorio monzese da un punto di vista dell'attività che facciamo negoziale con gli enti locali è molto diverso rispetto alle chiese. I comuni sono comuni molto più grossi da un punto di vista abitativo. Abbiamo un problema di gestione del territorio da un punto di vista della mobilità, da un punto di vista del problema delle case. E con loro, con gli enti locali, dovremmo insieme lavorare per trovare delle soluzioni che possano favorire una fruibilità maggiore di questi due elementi. In aggiunta c'è tutta la partita delle tariffe comunali che sul monzese hanno ampi margini, ampi spazi per poter essere affrontate a favore delle persone più fragili. Mi riferisco in particolare alla questione dell'esenzione sulle addizionali comunali, che noi chiediamo essere portata almeno su oltre i 16 mila euro, per permettere alle persone più fragili che hanno un reddito ridotto di avere un carico fiscale inferiore. Sul monzese questa cosa secondo noi è possibile e sarà uno dei terreni su cui lavoreremo nei prossimi anni.